buongiorno a tutti allora volevo presentare oggi le opportunità di studio all'estero quindi dando una un overview di cosa si intende e cosa quali possibilità forniamo noi al politecnico allora innanzitutto il perché andare all'estero se voi mi dite che voi volete andare all'estero perché ci sono gli stipendi più alti vi devo dare ragione se mi dite che invece volete andare all'estero perché in italia non c'è lavoro beh per perlomeno nel nostro settore questo non è vero quindi quello che noi fondamentalmente pensiamo è che l'andare all'estero è una possibilità unica per iniziare incontrare lingue e culture diverse per aprirci un pochino a una visione più internazionale basta che prendete il mappamondo e vedete quante grande l'italia lì sopra e vi rendete conto che dobbiamo avere una mentalità un pochino più aperta che va dal di là dei nostri piccoli confini ecco sicuramente lo studio all'estero ci permette di entrare in contatto con con popoli culture lingue modi di pensieri diversi anche modi di insegnamento diversi questo non vuol dire che al di fuori del politecnico si si insegna meglio si insegna in maniera diversa tutti quanti ci riconoscono che dal punto di vista teorico l'università italiana ha pochi a pochi sfidanti dal punto di vista pratico invece abbiamo qualche lacuna in più ecco andare all'estero vuol dire confrontarsi con un sistema di insegnamento diverso rispetto al nostro con ovviamente i pregi difetti quindi questo è il motivo per cui noi suggeriamo i motivi per cui noi suggeriamo e spingiamo l'andare all'estero anche nuove opportunità volendo nuove opportunità lavorative eccetera quindi messaggio numero uno al politecnico perlomeno nel nostro settore dell'ICT assolutamente non c'è l'intenzione di tenervi a torino anzi se volete andare all'estero per noi ponti d'oro sarebbe bello poi ritornaste pochi ritornano devo dire però insomma questo è un altro discorso che esula dalle nostre competenze cosa offriamo per andare all'estero offriamo sicuramente il percorso di doppio titolo che vuol dire avere una laurea sia come politecnico sia come università straniera ecco l'ordine con cui sono in questa slide non è casuale perché noi sicuramente abbiamo una preferenza per mandare all'estero gli studenti modalità doppio titolo perché sicuramente quella più prestigiosa per noi dopodiché c'è la modalità corsi più tesi quindi tipicamente si va un anno all'estero si fanno sei mesi di corsi e sei mesi di tesi e poi ci sono altre modalità quindi ad esempio una modalità di corsi o tesi mobilità semestrali le altre invece sono 12 18 mesi per il doppio titolo 12 mesi per il corso più tesi mentre invece il corsi oppure tesi sono sei mesi quindi vedete anche dal dal punto di vista della durata temporale che stiamo scendendo tesi ovviamente tesi sono sei mesi e tirocinio invece una durata variabile questo è un qualcosa che normalmente si fa post laurea perché scegliere una tipologia piuttosto che l'altra beh allora c'è chiaramente una preferenza personale se si vuole stare all'estero per poco chiaramente il doppio titolo da 18 mesi non è una buona idea una questione di media nel senso che per il doppio titolo ad esempio è richiesta una media che spannometricamente è intorno al 24 da quelle parti lì nella triennale poi la formula con cui andiamo a fare le gradatorie non non tiene conto solamente dalla media però insomma spannometricamente bisogna avere dal 24 in su ok per il doppio titolo quindi preferenze personali media ok e poi anche opportunità quindi quali sono le università o i paesi nei quali volete andare ad esempio se volete andare in Giappone non abbiamo doppi titoli in Giappone abbiamo solamente la modalità corsi più tesi e così via allora come si svolge la mobilità io spero che questa slide sia sufficientemente chiara poi peraltro le lascio queste slide allora la prima la prima cosa da considerare è che la mobilità si fa tipicamente al secondo anno vedete no la la parte in verde è tipicamente sempre al secondo anno quindi questo vuol dire che il primo anno della magistrale ditemi cosa volete ma si fa a Torino e insieme al primo anno della magistrale vuol dire che tutti gli esami che sono previsti al primo anno della magistrale bisogna superarli a Torino cioè non si può fare il giochino del tipo questo esame al primo anno della magistrale particolarmente complesso non lo faccio a Torino ne vado a fare un corso equivalente all'estero no cioè questo non esiste il primo anno si fa obbligatoriamente sempre a Torino d'altro canto prendete un titolo del Politecnico ci mancherebbe che non seguite i nostri corsi perlomeno una parte sostanziale dei nostri corsi qua dopodiché le cose si cambiano leggermente a seconda della della mobilità che andiamo a scegliere peraltro mi accorgo adesso che c'è un errore qui cioè partiamo dal doppio titolo doppio titolo si fanno 12 mesi a Torino poi si fanno 18 mesi all'estero di cui 12 di corsi questo vuol dire che nel titolo doppio nel doppio titolo diciamo così classico non si acquisiscono i 90 crediti di corsi diciamo così canonici ma se ne acquisiscono 30 in più 120 crediti questa è una sorta di extra costo per riuscire a prendere il doppio titolo quindi un anno il secondo anno completamente all'estero per fare corsi a cui segue poi il periodo di sei mesi per quanto riguarda la tesi visto che questo percorso da 18 mesi all'estero è obiettivamente pesante per tutti quanti stiamo lavorando su alcune destinazioni per accorciare la doppia laurea il doppio titolo a 12 mesi all'estero infatti questo è un errore questa parte qua dovrebbe essere verde scusatemi non me ne sono accorto di questo problema ok quindi fondamentalmente ci sono alcune destinazioni doppia laurea che in questo momento vi permettono di prendere la doppia laurea quindi il doppio titolo con 12 mesi all'estero quindi sei mesi di corsi e sei mesi di tesi ovviamente il tutto a un prezzo nel senso che acquisirete meno competenze eccetera eccetera però poi i dettagli ve li diciamo poi anche più avanti non è necessario che racconti proprio tutto adesso la seconda mobilità nell'ordine di importanza è la corsi più tesi la corsi più tesi come vedete molto simile alla precedente corsi cioè un anno il primo anno della magistrale a torino e poi il secondo anno totalmente all'estero dove ci sarà il corsi da sei mesi e una tesi altrettanto da sei mesi quindi è simile alla modalità doppia laurea abbreviata però non prendete il doppio titolo poi ci sono mobilità più brevi partiamo dalla corsi tesi tipicamente extra web che è disponibile esclusivamente all'estero scusate in extra web perché le mobilità da sei mesi per noi tranne ingegnerie del cinema che esigenze specifiche sono un po' una mobilità di serie b il motivo è che è molto corta è difficile riuscire ad ambientarsi in maniera adeguata ed è anche più difficile curare la logistica cioè faccio un esempio molto banale ma quando voi andate all'estero per un anno partite a settembre in alcuni casi ad agosto e tornate l'anno dopo più o meno nelle stesse condizioni vi fate tutto l'anno quindi fondamentalmente non è importante il calendario didattico della dell'università di destinazione inizia se i corsi iniziano settembre iniziano ottobre a voi cambia poco intanto state tutto l'anno e seguite tutto l'anno là se invece voi fate sei mesi l'intersecarsi del calendario in italia e all'estero inizia a diventare problematico ci sono dei casi in cui ad esempio a torino gli esami finiscono a fine febbraio per il primo semestre e i corsi quindi iniziano marzo ma altre università all'estero iniziano i corsi del secondo semestre a inizio febbraio quindi capite che a febbraio dovreste essere contemporaneamente qui per dare gli esami e all'estero per iniziare a seguire i corsi e questo chiaramente ha delle implicazioni abbastanza pesanti dal punto di vista della logistica quindi questo è il motivo per cui le mobilità di sei mesi tendiamo a averne poche e fondamentalmente principalmente con i paesi extra ue perché lì è più difficile avere degli accordi di tipo più lungo quindi per queste destinazioni avete la mobilità corsi all'estero quindi vedete un anno in italia poi sei mesi di corsi all'estero e la tesi la fate dove volete ufficialmente al politecnico però in realtà poi la tesi può essere fatta anche in azienda anche eccetera quindi in realtà poi potreste anche andare nuovamente all'estero per fare la tesi ma sono due cose distinte oppure la seconda mobilità che possibilità che è questa è quella di avere i corsi a torino sei mesi scusate i corsi a torino per 18 mesi scusate qua c'è un altro errore mannaggia me e poi la parte verde quindi la tesi all'estero come completamento dei vostri studi questo come vedete è assolutamente identica alla modalità tesi all'estero quindi questa quarta mobilità quindi 18 mesi di corsi a torino e poi sei mesi di tesi all'estero e allora uno si chiede ma perché c'è la modalità 3 quindi corsi tesi extra web e poi la modalità 4 tesi che apparentemente sono la stessa cosa apparentemente sono la stessa cosa ma dal punto di vista burocratico sono diverse perché i bandi a cui dovete fare domanda sono diversi nel caso di extra web il bando prevede la richiesta dal punto di vista dello studente di andare in una specifica destinazione che noi vi diamo da un elenco mentre invece per quanto riguarda l'attesi all'estero e basta quindi la modalità 4 siete voi che decidete dove andare quindi non dovete prendere dall'elenco di destinazioni che vi diamo noi con i pregi e i difetti della della cosa ultima mobilità è quella di tirocinio cioè fondamentalmente si fa tutto a torino e dopodiché quindi inclusa anche la tesi quindi ci si laurea a torino e dopodiché c'è la possibilità di andare per alcuni mesi fino a circa sei mesi a fare un tirocinio che è una sorta di stage più o meno pagato allora alcuni seguono questa strada semplicemente perché hanno voglia di avere nel loro curriculum accademico anche questo tirocinio il tirocinio è diverso dalla tesi perché il tirocinio è un periodo di lavoro tipicamente in un'azienda o un centro di ricerca però appunto di lavoro la tesi invece è un progetto che voi dovete portare a termine per dirne una nel tirocinio ci sta che in un mese fate una cosa il mese successivo fate un'altra cosa lavorate su un problema diverso eccetera nella tesi invece no la tesi devono essere sei mesi in cui lavorate sullo stesso problema fondamentalmente no quindi c'è un pochino più di varietà nel caso di tirocinio sulle sulle cose che vi possono far far fare devo dire che è una scelta abbastanza poco gettonata dai nostri studenti però ce l'abbiamo allora chi pensa alla mobilità quando deve pensarci allora per quanto riguarda il doppio titolo deve pensarci al primo anno della magistrale quindi deve fare domanda durante il primo anno della magistrale per andare poi all'estero al secondo per i corsi più tesi idem come sopra deve pensarci al primo anno della magistrale per andare all'estero l'anno successivo per i corsi più tesi extra web può pensarci al primo o al secondo anno della magistrale a seconda di quando vuole andare all'estero se vuole andare in questo semestre allora deve pensarci al primo anno se vuole andare nel semestre successivo quindi al completamento degli studi con la tesi deve pensarci al secondo anno della magistrale per quanto riguarda la tesi se ne parla sempre al secondo anno della magistrale idem come sopra il tirocinio se ne parla al secondo anno della magistrale io assumo in questo questo caso purtroppo non ho tanta gente davanti quindi non è che sia possibile così tanto interagire assumo che la maggioranza degli studenti che sta seguendo questo meeting sia studenti che sono iscritti ancora alla laurea triennale che quindi l'anno prossimo entreranno nella magistrale e quindi si vedranno fondamentalmente le prime due scelte gli altri studenti probabilmente sono in amminoranza c'è una domanda nella chat è vero sia la tesi che il tirocinio all'estero si possono fare perché per data science sono separate no allora non vorrei entrare nelle specificità dei singoli corsi di laurea per data science il contatto è danilo giordano quindi ogni corso di laurea poi le sue specificità io quello di cui sto parlando è il tirocinio e la tesi diciamo così canoniche no poi se ci sono delle esigenze particolari per cui per data science la tesi è più piccola eccetera quella poi bisogna mettersi d'accordo con con danilo quindi seguire queste 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 raccomandazioni che danilo vi darà non so se ho risposto ok va bene dove si va allora non voglio fare la sbrodolata di tutte le destinazioni perché sarebbe chiaramente stupido in questo momento le destinazioni sono sul bando queste sono un estratto di quelle che c'erano l'anno scorso le destinazioni sono sul bando e variano leggermente da anno in anno anche perché queste dipendono dagli accordi erasmus che riusciamo a stabilire durante l'anno e quelli che invece decidiamo di non rinnovare più ad esempio perché ci sono pochi studenti che vanno in quelle in quelle destinazioni eccetera quindi prendete questo elenco di destinazioni un po con il beneficio dell'inventario però vedete che sicuramente eh siamo particolarmente sbilanciati su francia germania e spagna eh svezia sembra che abbiamo un sacco di posti in realtà ce ne sono pochi ci sono parecchie destinazioni ma pochi posti quindi i paesi più più gettonati sono francia germania e spagna poi il resto eh vedete sulla slide per quanto riguarda eh il doppio titolo ecco il doppio titolo siamo sicuramente sbilanciati su francia eh e spagna ehm con parecchie destinazioni francesi e madrid e barcellona in spagna poi c'è kth in svezia che sicuramente è una delle destinazioni preferite secondo me anche un po inflazionate o considerate fino perfino un po troppo però insomma questo è ehm una nota importante queste destinazioni sono eh diciamo così indicative sia questa slide sia le precedenti anche perché possono cambiare anzi cambiano eh tra corsi di laurea diversi quindi non è detto che tutte le destinazioni siano disponibili per cyber security o che tutte le destinazioni siano disponibili per data science quindi per vedere esattamente quali sono le destinazioni bisogna guardare al bando eh che esce tipicamente intorno a metà ehm a metà novembre quindi per avere l'elenco preciso delle destinazioni per il vostro corso di laurea in certi casi anche per il vostro indirizzo cioè ad esempio ci sono delle destinazioni che sono riservate ingegneria informatica eh indirizzo embedded system questo come esempio dovete guardarlo poi sul bando questo perché nelle destinazioni grandi nell'università grandi è abbastanza probabile trovare eh del degli accordi quindi trovare un numero di corsi di docenti eccetera significativamente elevato per tutti i nostri studenti indipendentemente che siano data science informatica embedded eccetera sulle destinazioni più piccole sull'università più piccole eh certe volte non è così semplice riuscire a trovare un numero di corsi di opzioni adeguato eh per tutti i nostri studenti allora a questo punto andiamo a selezionare eh solamente alcuni indirizzi eh di queste destinazioni eh quindi questo è scritto nel bando una cosa la dico così poi eh la ridiremo a dicembre quando ci rivedremo per chi è davvero intenzionato a fare la mobilità eh un'altra cosa da tenere in conto è che in certi casi questa scelta è esplicita quindi ad esempio la destinazione X è disponibile solo per ingegneria informatica indirizzo che ne so ehm software eh in altri casi questa ehm questo vincolo non è esplicitato in maniera puntuale sul bando ma è lo studente che deve andare a controllare andare a verificare che eh l'università abbia un'offerta adeguata nel suo settore e questo uno dice ma non potevate dircelo prima eh purtroppo non è sempre così possibile dirlo prima perché come noi cambiamo l'offerta didattica al politecnico anche le altre università cambiano l'offerta didattica e quindi per noi diventa impossibile stare dietro ai cambiamenti dell'offerta didattica di tutte le destinazioni con cui abbiamo accordi quindi su alcune eh destinazioni dove abbiamo rilevato delle criticità nel passato andiamo a segnalare in maniera esplicita eh quali sono gli indirizzi che possono essere eh appropriati su altre destinazioni dove non abbiamo rilevato criticità nel passato non andiamo a segnalarlo però è compito vostro andare a controllare prima di scegliere ma voglio andare a questa destinazione in Finlandia andate a vedere prima che quell'università in Finlandia faccia al caso vostro in base ai vostri interessi culturali quindi quello che volete fare no? eh all'interno del vostro piano di studio per quanto riguarda extra web beh ci sono parecchie possibilità direi che eh storicamente le possibilità più gettonate sono Sud America vediamo parecchi studenti che parecchio un certo numero di studenti che va verso il Brasile e l'Argentina ehm e poi ehm l'Asia ci sono parecchi studenti che vanno verso Giappone eh Cina ehm Corea eh che forse non c'è scritta qua ma c'è anche la Corea eh ovviamente poi ci sono alcune destinazioni negli Stati Uniti e in Canada insomma che credo siano interessanti per gli Avimo. A tutto questo si aggiungono i progetti speciali di cui non vi parlo adesso esplicitamente ma ci saranno poi dei meeting eh dedicati eh tra i progetti speciali sicuramente per noi è molto importante il progetto top eh UVC che è un doppia laurea tra Torino e eh il l'University del del Illinois eh a Chicago che appunto è un è un doppia laurea con il primo anno qui e il secondo anno eh negli Stati Uniti. A differenza delle destinazioni però precedenti queste eh questi percorsi speciali possono essere abbastanza costosi in particolare il top UEC è vero che voi ricevete una borsa però dovete mettere in bilancio di spendere mh 15 mila euro no? Da quelle parti lì 15 20 mila euro per poter studiare da quelle parti perché non tutto vi viene abbonato quindi avete delle spese eh sostanziali da da coprirvi da parte vostra quindi anche questo deve essere eh considerato. Sono comunque spese inferiori a quelle che andreste in conto se andreste per conto vostro però comunque in certi paesi l'educazione è eh a pagamento anche abbastanza costosa e non è che possiamo eh abbonare tutti tutti i costi. Allora quando eh si inizia la parte diciamo così burocratica eh e purtroppo si inizia dalla parte burocratica perché eh questi sono bandi pubblici quindi voi dovete fare domanda ci sarà una gradatoria ci sarà una lista di persone che saranno ammissibili e altri che invece non potranno accedere a questi benefici perché o sono troppo in basso nella lista oppure altri motivi eccetera. Quindi si inizia con la burocrazia. Quando si inizia? Beh i progetti speciali tipicamente partono abbastanza prestino quindi intorno a settembre inizio ottobre per quanto riguarda top UEC eccetera per partire poi l'anno successivo. La ragione è che la selezione è abbastanza pesante viene fatta in parte qui in parte negli Stati Uniti e poi a fronte della della selezione bisogna anche fare tutta la parte burocratica. Eh spostarsi negli Stati Uniti richiede la richiesta del visto eccetera. Tutte queste parti amministrative che sono extra università ma che devono essere fatte e che richiedono tempo. Spostarsi dall'Italia alla Germania invece è una cosa molto più semplice perché dal punto di vista eh burocratico eh perlomeno non c'era la richiesta del visto eccetera. Per quanto riguarda invece il bandus il bandus scusate Erasmus o Estraue quindi fondamentalmente il grosso delle nostre destinazioni la domanda eh si fa a eh gennaio. Ok? Quindi il bando esce a metà novembre c'è circa quasi due mesi di tempo per esaminare il bando vedere le destinazioni parlare chiedere consigli andare a parlare con le persone responsabili eh dei vari corsi di laurea della mobilità dei vari corsi di laurea eh e poi il bando si chiude circa metà gennaio lì si chiudono le domande poi c'è la selezione e eh il resto. Ok? Quindi eh la la i risultati si sanno intorno a marzo quindi intorno a marzo voi eh saprete se eh potrete andare all'estero e dove in che destinazione tra quelle che avete scelto. C'è un bando piccolino sull'Extraue eh che viene fatto a luglio ok? Eh per le destinazioni nell'emisfero sud semplicemente perché l'anno il calendario accademico che è eh diverso rispetto al nostro è invertito dal punto di vista dei semestri e per il secondo anno invece si parla di tesi e di tirocinio eh per quanto riguarda tesi e tirocinio non ci sono delle deadline così stringenti come nel caso del 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 bando Erasmus quindi ci sono dalle due alle quattro finestre eh all'anno in cui voi potete fare domanda quindi fondamentalmente eh in questi casi presentate una proposta di tesi presentate la 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 lettera di eh di disponibilità ad accettarvi del docente straniero oppure del dell'azienda straniera e il politenico esaminerà queste domande e deciderà se siete ammissibili per un contributo economico oppure no. Considerate che la tesi all'estero la potete fare sempre e comunque il bando serve per ottenere il contributo economico. Se se voi non ne avete bisogno potete evitarvi il bando diretta. Per quanto riguarda la gradatoria è puramente in base al merito eh che è principalmente legata ai vostri risultati durante la triennale. Attenzione che i risultati sono due quelli che sono importanti. Il primo è la vostra media esami e il secondo è il numero di crediti superati quindi anche la velocità con cui voi avete fatto avete terminato il percorso della triennale entra in gioco nel calcolo di questa gradatoria. Quindi a parità di media uno studente che si laurea in triennale in tre anni e più in alto in gradatoria di uno studente che si laurea triennale in quattro. Ultima cosa per quanto riguarda eh chi contattare. Allora eh ogni corso di laurea ha un responsabile della mobilità eh che sarà vinco per gli informatici, Marcello Chieberge per i meccatronici ehm Danilo Giordano per i data science e eh Fulvio Valenza non Aldo Basile. Ok Fulvio Valenza oppure Aldo Basile per quanto riguarda eh cyber ne sono ne dimenticato uno che è il il laurea in cinema che è Laura Farinetti. Ecco queste persone sono le persone che voi andate a contattare per gli aspetti accademici. Aspetti accademici del tipo è meglio fare un doppia laura, è meglio fare una laura semplice eh quali corsi mi consiglia o meglio ancora questo corso me lo consiglia oppure no eccetera. Quindi la 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 l'obiettivo del vostro eh responsabile accademico è quello di guidarvi ed aiutarvi nella scelta accademica del percorso. Tutto il resto, quindi la logistica, quali sono le deadline, ma mi aiutate a cercare casa eccetera eccetera, questo è l'ufficio mobilità internazionale. Ci sono delle persone dedicate a rispondere a tutte le altre problematiche che non siano di tipo eh accademico. Normalmente rispondono come adesso è stato deciso per il politecnico attraverso ticket, anche se poi c'è uno sportello e mi risulta che potete anche andare di persona a fare qualche domandina. Eh ovviamente una parte delle informazioni eh sono anche sul sito web dedicato che è quello dello studiare all'estero. Io lo trovo un po' confuso questo sito eh però c'è e quindi io vi suggerirei comunque di andare a navigare anche su questo sito per eventuali eh domande. E io eh avrei chiuso così e lascerei lo spazio ad eventuali domande e curiosità eccetera. Qualcosa in sala? I poveretti in sala si sentiranno puntati. E' già successo di fare lezioni con un solo studente. Oh ecco grazie di aver fatto questa domanda perché eh questa è è una criticità. Allora la doppia laurea non è compatibile con il percorso ASP. La mobilità sì ma la doppia laurea no per una decisione di anni fa dell'Ateneo. Eh la ragione ovviamente c'è sempre una ragione no? E quindi quindi la ragione di questa incompatibilità è il fatto che la SP vi chiede dell'attività extra eh alcune delle quali anche in presenza. Eh quando si va in mobilità se si va all'estero si dovrebbe stare all'estero non non si dovrebbe ritornare in Italia per farsi una settimana di scuola estiva sulla SP. Eh quindi dal punto di vista formale ci diventava difficile riuscire a conciliare le due cose. Quindi la mobilità all'estero è consentita per gli studenti della della SP ma non in doppia e in modalità doppia laurea. Quindi non potete cumulare tra lauree contemporaneamente. Allora per il percorso cyber c'è la possibilità di fare la doppia laurea? Allora per il percorso cyber c'è la possibilità di fare la doppia laurea? Allora la risposta è sì come tutti gli altri eh percorsi. Eh dobbiamo però fare un attimino attenzione alle destinazioni. Non tutte le destinazioni sono in questo momento abilitate alla doppia laurea. Poi so che c'è eh Fulvio Valenze e Aldo Basile che stanno eh lavorando per aumentare gli accordi. Perché il problema del di cyber è che cyber nasce da una costola di eh di ingegneria informatica. Eh ma differenziandosi da ingegneria informatica. Cioè eh essendo una laurea a sé stante gli accordi che coprivano ingegneria informatica non coprono più cyber. Quindi bisogna prendere questi accordi ed estenderlo. Che è un processo che detto così mettiamo due firmette no? Sembra una cosa abbastanza tranquilla e invece tranquilla eh non è proprio per niente. Quindi l'anno scorso la disponibilità era abbastanza limitata fondamentalmente a Eurecom eh però so che loro stanno lavorando per per estendere fondamentalmente per l'obiettivo per noi è quello di avere tutte le destinazioni di doppia laurea che coprano tutte le nostre lauree. Tranne eccezioni. Quindi stanno cercando di allineare cyber a raggiungere questo obiettivo. Non so se chi prende. Per quanto riguarda cyber security avremo sicuramente molte più destinazioni sul progetto Erasmus Plus eh perché è un po' più semplice creare queste convenzioni doppia laurea cioè queste convenzioni di mobilità. Diversamente per la doppia laurea dove c'è tutta una parte di verifica dei percorsi che siano complementari perché uno prende sicuramente la laurea e non la teniamo anche un'altra perché i piani stupiano essere complementari è una procedura un po' più complicata e l'avremo meno disponibilità rispetto sicuramente a quelle che ha ingegneria informatica. Però qualche disponibilità in più rispetto all'anno scorso sicuramente ci tranno anche per se comunque sia per la doppia laurea che per il professore. Sia per la doppia laurea che per il professore. Sia per la doppia laurea che per il professore. Sia per le destinazioni a questa disponibilità. Sì. In questi proprio mesi stiamo finalizzando gli accordi a novembre. Poi ci sarà l'elenco di tutti gli accordi finalizzati. Ok ci sono un paio di domande che sono arrivate. I progetti speciali comportano il prolungamento della carriera come nel caso di doppia laurea in cui il periodo all'estero può essere di 18 mesi. Allora no tipicamente no. Sui progetti speciali in particolare sul top UEC il percorso di 24 mesi come come la laurea normale. Altra domanda. Come funziona il bando in caso di richiesta per uno studente con anticipo crediti che si dovrebbe laureare a marzo. Allora ecco questa un'altra domanda un po' critica. Allora tecnicamente uno studente che si laurea a marzo può fare domanda per l'Erasmus. Ovviamente verrà un pochino penalizzato dal punto di vista della gradatoria perché la velocità con cui lui ha finito la triennale è inferiore rispetto a quella diciamo così migliore possibile. Quindi la possibilità di fare domanda sicuramente c'è. Dopodiché però dovete farvi un attimino due conti e vedere un po' se vi conviene o meno o perlomeno quale forma di mobilità vi conviene. E il discorso parte fondamentalmente da questa slide. Cioè voi dovete ricordarvi che qualunque cosa succeda voi andrete a fare il primo anno dei vostri corsi a Torino. Quindi se voi vi laureate a marzo vuol dire che voi iniziate i vostri studi fondamentalmente qui il secondo semestre del primo anno. E poi che succede all'anno successivo? L'anno successivo voi dovete andare all'estero. Non è che potete rimanere qui in Italia a fare il primo semestre dei corsi perché quello non è possibile. Il secondo anno bisogna andare all'estero e quindi voi andate all'estero vi fate ad esempio questi sei mesi di corso, questi altri sei mesi di tesi e poi che fate? Mica vi potete laureare, vi mancano ancora sei mesi di corsi. Quindi voi dovete tornare a casa e farvi questi altri sei mesi di corsi. Quindi vedete non è che sia particolarmente conveniente un percorso di questo tipo. Poi è vero possiamo mitigarlo un pochino ok? Quindi possiamo rendere questa pillola un pochino più digeribile però però fondamentalmente questo problema c'è. Quindi se voi vi laureate a marzo io vi suggerirei di considerare di più il percorso di tesi all'estero rispetto a un percorso di corsi più tesi perché il percorso di tesi può essere fatto quando volete mentre invece un percorso di corsi più tesi deve essere fatto obbligatoriamente a settembre partendo a settembre del secondo anno. Se voi a settembre del secondo anno avete superato un numero di esami basso del vostro primo anno dovete poi comunque tornare a Torino e finire gli esami qua. Quelli del primo anno si fanno qua. Non è possibile fare qualche altro trucco. Quindi tecnicamente vi potete potete fare domanda per per l'Erasmus sempre tecnicamente il vostro punteggio sarà più basso rispetto ad altri a causa della vostra velocità di laurea fatevi due conti per vedere se ci state dentro e come potete gestire questa situazione. Altra domanda qui se io arrivo da ingegneria gestionale al politecnico e in magistrale passo ingegneria informatica o data sense potrò farlo stesso la doppia laurea o ci sono dei vincoli che non me lo permettono? Allora io do una risposta parziale nel senso che questa non è una domanda di tipo accademico qui stiamo parlando di problematiche di tipo accademico quindi io non sono il massimo esperto in materia quindi conviene poi fare una verifica con l'ufficio mobilità essendo più una problematica di tipo amministrativo però da che io sappia non ci sono problemi a fare la doppia laurea ovviamente la media verrà calcolata sulla sulla laurea triennale quindi sugli esami che si sono stati sono stati superati durante la laurea ingestionale. Altra domanda laurearsi il terzo anno di triennale a luglio piuttosto che a settembre fornisce dei vantaggi nella gradatoria? Ecco altra domanda di tipo amministrativo io non controllo la formula con cui la gradatoria viene fatta quindi non sono in grado di rispondervi in maniera puntuale se luglio o settembre faccia una differenza il mio sentore che faccio se fa differenza con una differenza molto piccola però se volete avere la risposta certa dovete passare dall'ufficio mobilità è una domanda di tipo amministrativo e quindi se ne occupano loro c'è qualcuno che sta parlando vuole fare una domanda altre domande c'è qualcosa di cui mi sono dimenticato ah sì sicuramente allora questo evento quello di oggi è solo un evento assolutamente introduttivo sulle possibilità della mobilità e quindi insomma da che parte iniziare a guardare sul website o le persone da contattare però poi quando entreremo nel merito ci saranno degli altri eventi in particolare lasciamo stare i percorsi speciali quindi top uc che ha una gestione sua però nel caso del bando erasmus che è il grosso del delle domande di mobilità avremo delle riunioni dedicate intorno a novembre inizio dicembre delle riunioni dedicate sia per la parte accademica quindi vedrete di nuovo dei docenti che verranno a aiutarvi a smarcare problemi di corsi scelta di sedi e roba di questo tipo sia un altro meeting dedicato alle problematiche amministrative li dovrebbe essere proprio molto chiaro che al poli ci sono due gruppi di persone che si occupano di cose diverse voi dovete interfacciarvi col gruppo giusto quindi a novembre sicuramente da novembre inizio dicembre ci sono sicuramente queste due riunioni e poi tipicamente intorno a inizio gennaio alcuni corsi di laurea organizzano una ulteriore riunione prima della scadenza del bando per risolvere i problemi last minute quindi alcune domande che possono nascere prima di sottomettere la domanda della vostra candidatura al bando dopodiché c'è pausa per circa un mese e mezzo due mesi in cui le gradatorie vengono consolidate eccetera eccetera e poi si ricomincia con delle altre riunioni a partire da fine marzo inizio aprile per quanto riguarda le persone che sono state selezionate allora a quel punto entriamo più in profondità nelle varie problematiche del tipo come si scelgono i corsi all'estero come si convalidano questi corsi per quanto riguarda il catalogo dei corsi che c'è al politecnico perché poi comunque dobbiamo dargli la laurea come politecnico quindi tutto deve essere compatibile secondo l'ordinamento giuridico italiano che insomma si fa bisogna solo avere alcune accortezze eccetera mentre invece per i progetti speciali c'è un percorso distinto ci saranno anche dei meeting dedicati invece su Eurecom Eurecom per noi è una destinazione particolarmente importante perché abbiamo un sacco di posti globalmente abbiamo circa 25 posti per tutto il settore dell'ICT e nonché è un'università decisamente prestigiosa e quindi lì abbiamo del ci sarà un meeting dedicato tipicamente poco prima di Natale con un docente che arriva da Eurecom e vi presenta queste opportunità e risponde eventuali domande va bene se non ci sono altre domande io a questo punto chiuderei va bene grazie a tutti buon weekend